... ... ... ... ... ... ... Facciamo le mani, dottor Masino. Michele, non stai andando così lontano da casa. Non so che sono il responsabile di la tua vita con il tuo padre, no? Ci sono accadono, Fabrizio. Ma non basta, lo stesso, è pericoloso. I nostri amici di New York hanno avvertito Santino. Sembra che i vostri nemici lo sanno che tu sei qua. Santino, ti dissi quando poto tornare? No, ma non è cosa per ora. Per ora non se ne parla, più tardi casomai. Grazie. Che a un ne vai ora? Con leone. Perché non pegchiamo la macchina? Non voglio camminare. A cura. Michele, Corleone. Uno so, i mascoli. Sono morti tutti per vendetta. Ecco, i nomi dei morti. Io ho vissato. Ehi, America. Take me to the America, G.I. Ehi! Ehi, hei, hei! Take me to the America, G.I. clark apple e america america la tecnica di america gi clark apple rita apple mannaggia miseria mannaggia